Amici di Motori Online, oggi sono qui per provare la V300 in anteprima. Si tratta di un quadriciclo elettrico cinese importato dalla società anconetana Dessner e che ha delle caratteristiche davvero molto interessanti che adesso andremo a scoprire un pochettino più da vicino. Da un punto di vista estetico possiamo dire che si avvicina agli stilemi europei per quanto riguarda le microcar, però è molto più macchina rispetto ad altri modelli che abbiamo potuto vedere e lo scopriremo soprattutto durante la guida. Comunque non manca di niente fari a led, qua abbiamo la presa di ricarica che si può aprire semplicemente spingendo sul logo, ecco qua, e in generale abbiamo una lunghezza che arriva a 3 metri e 0,6. Sono disponibili due modelli differenti, uno a quattro posti che è quello che potete vedere in queste immagini e uno a due posti dove però lo spazio viene occupato dal carico anche perché dal punto di vista del bagagliaio naturalmente essendo una microcar non abbiamo molto a disposizione per quanto la panca posteriore di sedili sia assolutamente ribaltabile. Da notare la colorazione, qua si tratta della collezione macaron, quindi abbiamo a che fare con dei colori molto sgargianti, molto particolari che del resto si abbinano perfettamente a questo genere di auto.